Stiamo parlando di personaggi come Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Sono tutti intellettuali, eclettici e vivaci, interessati all'economia, alla politica e alla società, ai processi della natura e al funzionamento della tecnica, ma anche ai meccanismi della conoscenza. Oggi diremmo che erano pensatori a tutto campo, perché si interessavano a ogni aspetto della vita. Ad accomunarli era il metodo che usavano per i loro studi, cioè la critica e il confronto. La critica è l'espressione più diretta dell'uso della ragione. Ricordate quando abbiamo detto che il motto dell'illuminismo era sapere aude? Bene, la critica mette in pratica proprio questo spirito.